amici di milan.soccer ben ritrovati grazie a tutti coloro che sono soliti frequentare questo canale un grazie davvero di cuore vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi ancora di più a chi per la prima volta si imbatte in questo canale un po pazzo e poi un like un pollicione a questo video tre appuntamenti al giorno grande impegno ma un grande piacere perché mi ritrovo sempre con voi attivate la campanella per rimanere dunque aggiornati bene allora 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 campionato finito mancano le ultime gli ultimi dettagli anche pioli le sue parole sono abbastanza chiare siamo ai saluti senza rancore mister senza nessun rancore tireremo le somme tra qualche tempo adesso è tutto troppo caldo che cosa ci dispiace ci dispiace che sia finita così è come una bella storia sembrava una bella storia un bel fidanzamento l'anello di fidanzamento nel 2022 per un matrimonio che poi però purtroppo non è andato come doveva andare e per cui un in bocca al lupo a noi e un in bocca al lupo anche a lei mister adesso però si volta pagina io spero che si volti pagina perché come dice giustamente maurizio compagnoni fonseca può essere l'allenatore giusto e sì perché è un po come pioli ma l'abbiamo anche detto noi ieri sì perché fonseca è il sottone cioè quello che sta sotto diciamo così questo ombrello così ingombrante di nome red bird bisogna essere aziendalisti bisogna fare quello che vuole il padrone e che visione arcaica che avete voi non so americani non credo così grande l'america però lei signor jerry cardinale o si fa quello che dice lei e qualcuno ha detto ma metticeli tu i soldi il diritto alla critica mio caro amico è il fondamento della democrazia importante l'educazione metterci i soldi se tutti noi dovessimo metterci i soldi su questo ti do ragione potremmo fare un azionariato popolare e allora comincia per me va bene io ci sto un euro a testa 88 milioni di euro non bastano 880 milioni di euro 100 euro a testa e 88 milioni di tifosi fanno 8 miliardi 800 milioni e allora tutti quanti io sono il primo a farlo non c'è nessun problema azionariato popolare il futuro del milan perché altrimenti dovremmo andare verso il fondo verso i fondi verso l'arabbia saudita però intanto ci facciamo prendere in giro e continua anche il sindaco di milano mentre consegna l'ambrogino d'oro questo incubo questo incubo targato milan che dice bello darò anche al milan quando conquisterà la seconda stella caro sindaco lei deve sapere che ha premiato chi la seconda stella non l'ha vinta sono 18 gli scudetti conti bene evidentemente lei conti non li sa fare perché mi sembra che le cose non vadano benissimo e ancora dalla federazione italiana giococalcio arrivano notizie anche di dipendenti del della federazione italiana giococalcio che terminano il loro contratto e vengono assunti dall'inter ma ci picchia ragazzi nomi eccellenti tutto legittimo però quanta vicinanza è che coincidenze ma noi adesso ci rifugiamo dietro il nostro futuro rosio splendente e così molti di voi mi vogliono così allegro spensierato senza troppa polemica e avete ragione noi avremo un futuro meraviglioso le premesse non sono eccellenti ci mancherebbe altro magari un fonseca è uno con il nerbo cioè uno di quelli che riesce davvero no a fare i cambiamenti a volte troppi sì sei sono troppi sei cambi sono troppi me lo ricordo ancora quando li fece con la roma e tutti giù a ridere tranne la roma e tifosi della roma che persero tre punti beh insomma però in queste ore è uscito il nome di un tal mister x già tutti a chiedersi ma chi è questo mister x e allora ci siamo un po così informati e a quanto detto da autorevoli fonti autorevoli fonti che tra l'altro continuano a dire cose come è fatta per il rifinanziamento dell'inter tutta pagina bellissima colore meraviglioso il rosa è fatta il futuro è il nostro non ha detto nostro perché sembrava brutto ma il futuro è dell'inter e poi un bel passo indietro dovendo dire che ci sono problemi staremo a vedere il 20 maggio è vicino in realtà in lussemburgo il 20 è festa il 21 è festa quindi si potrà prorogare di due giorni insomma al di là di tutto questo pensiamo a noi e pensiamo che il mister x di cui si dice beh sarebbe xavi che addirittura sarebbe in odore di licenziamento da parte di la porta che sarebbe furioso adesso le motivazioni che girano sono tante così come sono tanti i nomi che girano attorno alla panchina del milan io voglio fare un diciamo voglio spogliarmi solo per un secondo anche se i colori non mi piacciono e quel nome a molti di noi ricorda un brutto giorno ma mi spoglio per un istante solamente dei miei colori preferiti il rosso e il nero e metto quelli dell'om olympic marsiglia forza ragazzi forza ragazzi siamo con voi forza portateci via fonseca lo vogliono a tutti i costi forza ragazzi sembra che ci sia una controproposta da parte dell'om il rinunciabile ma il milan fa gol a tutti ma non troppo teniamo basso il volume sì lasciamo che l'olimpic marsiglia possa coronare il sogno in fondo l'abbiamo già fatto no una partita che ancora ho qui come tanti di voi la finale di champions league chi è che se la ricorda e allora siamo ancora un po in alto mare per quanto concerne il il nuovo il nuovo il nuovo allenatore perché come vi dicevo fonseca in testa ma l'om olympic marsiglia ha fatto una controproposta che in francia dicono essere irrinunciabile ecco non rinunciare il treno passa una volta sola ma vuoi mettere l'olimpic marsiglia col milan vai vai non ti preoccupare noi ci arrangiamo sta tranquillo abbiamo passato momenti peggiori allora questo nome xavi xavi potrebbe essere un altro nome da avvicinare al milan staremo a vedere certo le cose ormai sono agli sgoccioli il tempo è ormai scaduto ci passiamo un buon fine settimana ci guardiamo comunque i ragazzi che scendono in campo e poi dalla prossima settimana vedremo quale sarà il futuro del milan e anche quale sarà il futuro dell'inter ciao ragazzi a dopo